Potrebbe essere uno dei punti di interesse storico archeologico che racconta la storia di Fano, una delle tante tessere che compongono il mosaico articolato e complesso che forma Fano tra Romanità, Medioevo e Rinascimento. La sua valorizzazione, recupero e inserimento nei circuiti divulgativi accrescerebbe certamente agli occhi dei visitatori il fascino di questa città che tanto da dare e mostrare ha. Invece è ridotto a un ammasso di pietre cadenti e quel poco che ne è rimasto, il tempo, l'incuria ed il degrado se lo stanno portando via. E' ciò che rimane della chiesa di Santa Maria dell'Arzilla, meglio conosciuta come Madonna Mare e che possiamo vedere nel parcheggio dell'ex area chief all'ingresso di Fano, proprio sulla sponda sud del torrente Arzilla. Oggi ciò che ne rimane è stato recintato. C'è una lapide ormai però scolorita, illeggibile, che recita che il luogo è stato consacrato da Papa Gregorio IV nell'anno 834. Vi era anche una targa dove era illustrata la storia e l'origine di questo luogo, ma ormai anche di questo rimane ben poco, solo un arrugginito supporto in metallo che ora funge, tristemente, da bidone della spazzatura. Se noi andiamo avanti di questo passo, tra un po' non vedremo più neanche quello che c'è rimasto di questa chiesetta. Quello che occorre fare è fare uno scavo metodologico partendo però da dati concreti, cioè da quelle che sono i documenti, autografi, manoscritti, degli alberghi e anche poi dopo l'ha ripreso Lamiani eccetera eccetera. Quindi l'importanza è sì nella chiesetta che noi vediamo, ma tutto quello che c'è sotto. Questo luogo dovrebbe essere molto caro ai fanesi, dato che probabilmente la città di Fano deve il suo nome al tempio che qui vi sorgeva e agli amministratori della città che tanto parlano di romanità, dato che prima della chiesa, come recitano indiscutibili tracce storiche, vi era un tempio pagano convertito dall'imperatore romano Onofrio in sacro luogo, un fanum appunto. Stiamo parlando del 390 d.C. Nel Medioevo Carlo Malatesti fece un voto alla Madonna e dopo la sua liberazione donò due corone d'oro e petre preziose, una al santuario della Santa Maria del Ponte e l'altra al santuario di Santa Maria dell'Arzilla appunto. E vi sono tracce, ci dice Milesi, di un collegamento diretto tra la rocca malatestiana e il santuario, oggi via Fabio Filzi. Cominciare a rendere quello spazio uno spazio archeologico, però se è vero che dal 1971 nessuno ci mette le mani in maniera complessiva, noi ci ritroveremo tra un po' ad avere un mucchio di mattoni. Allora non sarà più Madonna Mare, ma sarà il monumento dell'Ignavia e del meneferchismo di chi invece dovrebbe affrontarsi i problemi.